E' stato ritrovato a poche centinaia di metri dall'Università di Teramo a Colleparco Dino Taraschi, l'anziano, di cui non si annuevano più notizie dallo scorso 30 gennaio. Ultima traccia, i filmati carpiti dalle telecamere di videosorveglianza dell'Università in zona Colleparco ed è lì che si sono concentrate nelle ultime ore le ricerche di Dino Taraschi, 84 anni, scomparso da casa dallo scorso 30 gennaio. L'uomo è stato rinvenuto privo di vita sul posto le forze dell'ordine per i consueti rilevi. La notizia è pervenuta nel corso del tavolo di coordinamento tenutosi in mattinata presso la prefettura di Teramo. Il ritrovamento nei pressi di via Evangelista a Teramo, Taraschi, è stato individuato dai droni di vigile fuoco proprio in seguito all'incessante attività di ricerca messa in campo attraverso mezzi uomini con il coordinamento della protezione civile teramana.